Ciao ragazzi, bentornati di nuovo nel mio canale oggi terzo appuntamento per quanto riguarda la serie di video di Windows Server e Active Directory oggi vediamo come installare Windows 10 Enterprise quindi stiamo parlando della sezione Client Windows 10, Microsoft rilascia questo tipo di distribuzione per quanto riguarda le aziende da un lungo supporto, in effetti l'enterprise che useremo in questo video è la Windows 10 LTSC quindi Long Time Support Channel vi lascerò il link in descrizione la copia di valutazione dura 90 giorni dopo i 90 giorni non so effettivamente che cosa va a limitare l'uso di questa build però vediamo oggi l'installazione quindi l'ho scaricata, l'ho salvata in locale e vediamo come installarla sulla nostra Hyperview quindi come al solito andiamo su nuova, macchina virtuale andiamo avanti chiameremo la macchina virtuale Client1 avanti avanti la RAM che gli voglio dedicare è 2 GB non so se avete visto nel passo indietro no è più avanti la LAN è LAN esterna quindi all'interno della mia rete LAN non attata qui definisce il path dove andare a creare l'hard disk virtuale la dimensione facciamo 35 GB e andiamo avanti se volete scegliere un percorso diverso potete farlo tranquillamente però io scelgo quello di default gli andiamo a dare la ISO il percorso della ISO dove l'ho scaricato e nel volume D e nel Windows Server Client e questa è la ISO del client allora Windows 10 Enterprise spendiamo due parole è una distribuzione, l'ho già detto per le grandi aziende quindi il lato client fornisce un ambiente desktop veramente minimale in effetti non è presente nemmeno il Windows Store però dà un grande supporto a 10 anni ed è pensato proprio per le grandi aziende per le infrastrutture di rete nulla vieta ora andiamo ad avviare la macchina nulla vieta che potete mettere ovviamente potete creare questo laboratorio virtuale installando delle versioni Windows diverse dalla client dalla enterprise però oggi volevo farvi vedere diciamo proporvi questa enterprise di valutazione per avere diciamo contezza che esistono anche altre distribuzioni orientate alle infrastrutture di rete quindi se installate la Windows 10 Enterprise sappiate che la configurazione a livello di Active Directory è garantita in toto quindi qui andiamo avanti tranquillamente nell'installer avanti installiamo Windows vi proporrà due versioni scegliete la LTSC standard la N che vi propone mi sa tanto che è un po' più vecchiotta vi lascerò come vi ho detto il link in descrizione dove potete andare a scegliere anche le varie lingue di installazione vado avanti e parte l'installer accettate le condizioni di utilizzo personalizziamo l'hard disk quindi vede l'hard disk da 35 giga e vado avanti niente di più e niente di meno di quello che sappiamo fare con un'installazione Windows pulita di una Pro di una OMA bene arrivato a questo punto io stacco stacco la la registrazione e la riprendiamo più tardi bene la prima parte dell'installazione è andata a buon fine quindi andiamo avanti con i settaggi con la scelta della zona quindi Italia spendiamo due parole su Windows 10 Enterprise non so se ve l'avevo detto Windows garantisce un supporto e aggiornamenti per questa versione per un lasso di tempo pari a 10 anni vi avevo detto che è una versione di Windows 10 minimale minimale ma non perché non ha gli strumenti necessari per funzionare però è pensata per le grandi aziende quindi ipotizziamo di qui vado avanti per il layout ipotizzate di avere non so un settore della vostra azienda che fa solamente lavoro di segreteria quindi gli strumenti messi a disposizione per quel settore della vostra azienda saranno solamente diciamo indirizzati verso la parte diciamo contabilità non è presente come vi ho detto il Windows Store però si può sempre comunque installare è una versione di Windows 10 che premette diciamo l'uso all'interno di una infrastruttura di rete e quindi massimamente configurabile e quindi la compatibilità come vi ho detto con la Active Directory è massima quindi avere un supporto a 10 anni vi garantisce un'installazione ottimale perché non dovete più andare ad installare altre distribuzioni ma dovete andare solamente avanti nel roadmap delle versioni e degli aggiornamenti che usciranno in seguito ho visto anche che su alcuni siti il rilascio delle chiavi di licenza non sono nemmeno tanto essosi in termini di costi quindi ha un basso costo un basso costo io l'ho provata anche fisicamente su una macchina fisica e vi devo dire che la LTSC gira veramente tanto tanto bene la configurazione di rete per questa macchina è rete LAN esterna quindi verrà assegnato dal DHCP della mia rete LAN un indirizzo IP i settaggi di rete lì lasciamo così non abbiamo la necessità di assegnare a un client un indirizzo IP di rete statico lo abbiamo fatto col server però è ovvio che il server deve avere un indirizzo IP statico per essere raggiunto all'interno della rete LAN da vari punti vi avevo fatto vedere come abilitare il desktop remoto quindi dal server manager per ovvi motivi perché una rete LAN estesa potrebbe essere anche avere una grandezza fino a 10 km quindi ipotizzate un amministratore di rete che si deve recare fisicamente su un server è qualcosa di impensabile quindi avere il desktop remoto e la gestione del desktop remoto del server è veramente tanta tanta roba aspettiamo questi ultimi passaggi che sono passaggi che ovviamente simili uguali all'installazione di una versione di Windows come la Home o la Professional in un video successivo vi farò vedere perché abbiamo configurato il server abbiamo fatto il setting up abbiamo in questo vi faccio vedere come installare il client e in un video successivo vediamo come installare proprio l'acti directory qui facciamo aggiunta un dominio anche se un dominio non esiste quindi vi farà creare un account locale della macchina ci mettete quello che ci volete anche perché successivamente questa macchina dovrà entrare in dominio nome non mi sta funzionando la tastiera non ho capito perché ok user1 lo chiamiamo ci mettiamo la password rispettando le policy di sicurezza quindi maioscolo e minuscolo i numeri e caratteri speciali la fa ripetere domanda di sicurezza potete mettere quello che volete io vado avanti in maniera molto blanda ok vi farà i soliti settaggi del desktop e niente di più appena ovviamente sarà installata la macchina lanciate gli aggiornamenti e controllate se ci sono degli aggiornamenti da scaricare sicuramente ce ne saranno e vi consiglio ovviamente di farli vi ripeto per questo tipo di laboratorio potete anche installare una versione di windows che non sia necessariamente enterprise qua andiamo avanti settiamo al minimo quello che uscirà da questa distribuzione non abbiamo bisogno di trasmettere nulla a windows a microsoft attendiamo l'installazione dura 90 giorni la copia di valutazione io penso che sia il tempo necessario anche per vedere e provarla quindi ovviamente non so cosa succede dopo i 90 giorni quindi penso che ci siano delle limitazioni anche nell'utilizzo in termini di tempo forse avevo sentito anche su un forum che usando la ltsc ovviamente facendo scadere il tempo di valutazione l'utilizzo della macchina è consentito solamente per un'ora dopo di che si spegne non so se è un'ora al giorno o dopo un'ora lo si può riaccendere e funziona per un'altra ora non vi so dare dettagli in merito però se riesco a trovare qualcosa di più ufficiale vi garantisco che in un video successivo vi riferirò quindi sta configurando il desktop ovviamente l'account creato lo user 1 è l'account administrator locale cioè l'account che ha poteri amministrativi questo account ovviamente potrà essere usato solamente dall'amministratore della macchina perché una volta che la macchina entra in dominio bisognerebbe no scusi no bisognerebbe si deve ovviamente creare un account di dominio la macchina deve essere messa in dominio e quindi ci sarà un account di rete e un account amministratore della macchina che ha livelli a livelli amministrativi più elevate rispetto ovviamente all'utente di rete è un po' quello che succede all'interno delle grandi aziende andiamo avanti nell'installazione non ci vorrà molto almeno spero gli ho dato 2 giga 2 giga sono più che sufficienti per farla funzionare non in maniera molto molto prestante però penso che siano sufficienti per farla girare su Hyperview non so se stoppare la registrazione però andiamo avanti e vediamo cosa succede vedremo in questa serie di video come settare anche delle cartelle condivise come gestire i permessi di accesso alle cartelle la creazione di vari gruppi e come gli utenti appartenenti ai vari gruppi possono accedere alle cartelle quindi suddividere le permission all'interno di un file server visualizziamo da schermo intero ecco lo user mi chiede la password io ci entro con la password che ho settato in fase installazione e la mia Windows 10 Enterprise è pronta vediamo se ci sono degli aggiornamenti da fare vi consiglio di farli vedete l'ambiente desktop uguale a quello diciamo che conosciamo un po' tutti qui mi dice licenza di Windows scaduta non so perché però la licenza dovrebbe essere di 90 giorni non so se perché l'ho già installata tempo fa però dovrebbe essere 90 giorni di valutazione comunque vi garantisco che sono 90 giorni anche perché nel link che vi lascerò in descrizione nella pagina ufficiale di Windows è riportata copia di valutazione di 90 giorni vedete le impostazioni di sistema e quello che vi trovate è veramente minimale andiamo ad aggiornare la distribuzione aggiornamento di sicurezza vediamo se partono gli aggiornamenti oppure no vediamo se trova qualcosa dovrebbe trovare ovviamente qualche cosa vedete la rete funziona correttamente andiamo a vedere come ha settato la scheda di rete la diciamo hyperview ipconfig dovrebbe aver assegnato alla scheda di rete un indirizzo in classe c che è quello che viene assegnato all'interno della mia rete l'anna domestica in effetti è 1.84 vediamo i server dns assegnati vedete il server dns ovviamente è il mio router quindi ha funzionato tutto alla grande vedete sta scaricando gli aggiornamenti quindi signora che l'installazione è andata a buon fine e la parte networking sta funzionando benissimo bene io vi saluto spero che questo video vi sia piaciuto come sempre vi invito a mettere un bel like al mio video e iscrivetevi al mio canale ciao e alla prossima